Un lieve miglioramento dei casi positivi rispetto al picco di ieri, anche se il gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie delle Marche ha comunicato che salgono a 1.242 i positivi, 120 in più di ieri, su un totale di 3.225 testati. I ricoverati in terapia intensiva in regione sono 110, di cui 24 nei presidi ospedalieri di Marche Nord, 22 al Torrette di Ancona e 4 a Urbino. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia non intensiva sono 528, mentre i contatti in isolamento domiciliare sono 3.716. Di questi, in provincia di Pesaro Urbino, risultano asintomatici 1.216 persone e sintomatici 250. I decessi di oggi sono 12, con un totale di 69 nella regione, età media 80 anni. Tutti avevano patologie pregresse, nello specifico 6 erano domiciliati a Pesaro, una donna 90enne di Fermo, un 88enne di Cingoli nel Maceratese, una 79enne di Tavuglia, un 82enne di Fano, un 80enne di Gabiccemare e una 93enne di Monte Ciccardo.